Il messaggio circola da tempo, eppure non sembra mai abbastanza, visti i dubbi, spesso mal riposti, che ancora resistono e che vengono adotti come argomentazioni contro la vaccinazione anti-Covid. Alla dottoressa Graziella, soldato vaccinologa, abbiamo girato le domande più comuni. Vorrei partire da quella che è un po' la notizia del periodo, del giorno se vogliamo, cioè di un aumento sensibile dei giovani che corrono verso il vaccino. Complici, le limitazioni, Green Pass e tutto quanto, partenze, viaggi, estate, però di fatto hanno cominciato a capire che è meglio vaccinarsi, anche perché in questo momento sono proprio i giovani la fascia d'età più colpita. L'aspetto più incoraggiante di questa campagna vaccinale è vedere l'entusiasmo di tanti ragazzi, di tanti giovani che chiedono di essere vaccinati, anche i minorenni che chiedono ai loro genitori di essere vaccinati. Di contro c'è ancora resistenza nei confronti del vaccino, perché ormai è, insomma, opinione diffusa che ci si ammala lo stesso anche dopo il vaccino. Ricordo a tutti che nessun vaccino è efficace al 100%, e questa è la base per tutti i vaccini. Per questi vaccini anti-Covid siamo riusciti ad arrivare a una efficacia pari al 95%, che è comunque altissima. Attualmente le varianti hanno compromesso un po' questa efficacia, è vero, ma il vaccino è ancora in grado di prevenire una malattia grave, quindi con complicanze serie, è in grado di prevenire l'ospedalizzazione e soprattutto è in grado di prevenire i decessi. Assistiamo a un aumento di casi da variante Delta, però a questo non corrisponde un aumento di malattia grave, quindi di decesso e quindi di ospedalizzazione. Quindi a dimostrare che questo vantaggio acquisito oggi è da attribuire alla vaccinazione. Ma c'è un altro spettro che aleggia sull'Europa, la terza dose. L'unico che ha deciso in Europa, mi sembra sia la Germania, che a settembre partirà con la terza dose, però dedicata a particolari categorie, i più fragili, gli immunodepressi, gli anziani. In Italia siamo in attesa, quindi a fine mese penso ci sia qualche novità per la terza dose, che potrebbe essere destinata unicamente agli immunodepressi. E soprattutto si sta pensando a una terza dose di vaccino con un vaccino riprogrammato e adattato alle nuove varianti circolanti. Ecco, perché anche questo si può fare. Ora c'è la Delta, ricostruiamo tutto. Infine, a quelli che dicono che il vaccino dovrebbe essere sperimentato 20 anni, io vorrei che lei come vaccinologa dicesse, ma se mandiamo in campo il vaccino contro il coronavirus fra 20 anni, non sarà un po' tardi? Assolutamente sì. Poi vorrei ricordare che quando abbiamo tutti fatto il vaccino antipolio, anche in passato, non erano trascorsi 20 anni, il vaccino di Sebin orale venne sperimentato in pochissimo tempo e subito diffuso su scala mondiale.